Buongiorno a tutti e bentornati alla quinta lezione del corso gratuito di trading online più completo di YouTube Italia. Iniziamo ora la quinta lezione e vedremo l'analisi candlestick e l'analisi preliminare. In questa lezione e nelle prossime quattro ci concentreremo solo ed esclusivamente sull'analisi tecnica e quindi andremo ad approfondire e a conoscere tutti gli elementi più importanti dell'analisi tecnica. Partendo proprio oggi con l'analisi candlestick e l'analisi preliminare che sono due tipologie di analisi fondamentali che un trader, un analista finanziario deve assolutamente conoscere. Quindi se non avete mai sentito nominare una delle due è obbligatorio guardare e imparare quanto vedremo in questo video. Detto ciò partiamo subito e andiamo a vedere la definizione di analisi candlestick. L'analisi candlestick consiste nello studiare il prezzo di uno strumento finanziario tramite l'utilizzo delle candele giapponesi. Le candele giapponesi le abbiamo già viste nella seconda lezione, abbiamo proprio visto il grafico candlestick nella seconda lezione, non so se vi ricordate. E dicevamo proprio che il grafico candlestick è importantissimo perché ci permette di capire le dinamiche psicologiche che si nascondono dietro il mercato. Benissimo, questo è possibile grazie alle candele giapponesi, nel corso del tempo queste candele giapponesi sono state studiate e si è capito che in base alla loro forma, quindi in base alla dimensione del corpo e alle dimensioni delle ombre, è possibile capire, o comunque si può avere un vantaggio statistico, nel capire quali saranno i successivi movimenti del mercato. Infatti le candele si dividono in tre categorie, in base alla loro forma. Prima categoria sono le candele, eccole qui, di continuazione. Adesso io le ho già preparate, ho fatto delle immagini belle definite, così posso zoomare, vi posso far vedere bene. Non è importante imparare tutti i termini che vedete, perché vedete che c'è long green candle, short green candle, qual è la differenza? La differenza è nella lunghezza del corpo, nella grandezza del body, no? Vedete, questa è più grande e questa è più piccola. Però, insomma, possiamo... Poi dopo vedete che qua sono le marabozzi, che non hanno l'ombra. Se andiamo qua di fianco, vediamo bullish closing o bullish opening marabozzi, ma, insomma, possiamo dire che le candele di continuazione sono candele che presentano un corpo bello deciso e delle ombre poco pronunciate. Queste sono candele di continuazione. Questo vale sia per le candele rialziste che per le candele ribassiste. Andiamo ora a vederle un attimo a grafico. Prendiamo l'S&P 500 come indice. Ecco, vediamo, questa è una candela di continuazione ribassista. Questa è una candela di continuazione rialzista. Ve le evidenzio come sempre, perché così si capisce. Candela di continuazione rialzista. Questa qui, invece, è una candela di continuazione ribassista. Vedete che è possibile identificarne tante, eh? Anche questa che ha le ombre è una candela di continuazione ribassista, come qui nel grafico ne potete identificare tantissime. Poi dopo, se uno vuole entrare nel dettaglio, allora può dire, ah, guarda, questa la voglio classificare, come la classifico, si sposta. Su questo file, su questo file world. Beh, comunque vi potete segnare le cose più importanti. Capisce che è una bullish closing marabozzo. È importante sapere che è una bullish closing marabozzo? No, è importante sapere che è una candela di continuazione rialzista. Tutto lì, quindi secondo me non c'è bisogno di perdersi i nomi difficili. Basta solo sapere se sono candele di continuazione, indecisione o inversione. Infatti, adesso, viste le candele di continuazione, ci spostiamo immediatamente a identificare le candele di indecisione. Eccole qui. Candele di indecisione sono le seguenti, le spinning top, le doji e le long legend doji. Qual è la differenza tra le tre categorie? Beh, le spinning top hanno un po' di corpo, le doji non hanno corpo, le long legend doji, oltre a non avere corpo, hanno anche delle ombre molto pronunciate. Queste qui sono classiche candele di indecisione barra inversione. Quindi, quando voi fate la vostra analisi, e vi trovate una di queste tre, che poi dopo la dimensione delle ombre dipenderà anche dalla volatilità della giornata, potrete decidere di operare oppure di stare fermi. Naturalmente non si opera solo sulle candele di indecisione, perché dici, eh, allora il mercato è indeciso, allora entro. No, ci servono dei segnali in più. Però questo è un segnale importante per l'analista. Andiamo a vedere qui qualche candela di indecisione, adesso la andiamo a evidenziare, ecco qua. Questa può essere considerata una candela di indecisione, questa può essere considerata una candela di indecisione, vedete, e poi dopo, a volte, queste candele di indecisione poi portano anche a un'inversione di tendenza. Vedete qua? Il prezzo stava scendendo, poi è risalito. Qui altre candela di indecisione. Naturalmente, ripeto, non è detto che candele di indecisione portino effettivamente un'inversione. Ad esempio, qui abbiamo una candela di indecisione, ma il giorno dopo poi il prezzo è risceso. Ci sono candele anche molto volatili, ad esempio questa qui. È effettivamente molto volatile, se la si vuole classificare nel dettaglio, questa candela è una Long Legend Doji. Ecco qua. Andiamo ora a vedere le candele di inversione. Eccole qui. Le candele di inversione sono le seguenti. Zoomiamo un pochino. Ecco qua. Queste quattro famiglie. Sono le Cross Doji, la Dragonfly e la Gravestone Doji, che sono praticamente uguali, ma alla rovescio. L'Hummer e Langing Man, Inverted Hammer e Shooting Star. Queste qui sono le principali candele di inversione. Ora faccio una parentesi prima di andare avanti e spiegarle. Queste qui hanno una probabilità di successo. Non è detto che se vedete una Cross Doji, un Hammer, allora sicuramente il prezzo girerà. Avete un vantaggio statistico, ma non è sicuro. Questo è molto, molto importante. Ricordatevelo. Perché si rischia molto spesso di guardare questi candeli. Ah, guarda, c'è quella, la riconosco, allora vai, metto i soldi. No, se fosse così semplice guadagnerebbero anche i bambini, perché basterebbe guardare la forma delle candele e si guadagnerebbe col trading online. Purtroppo non è così semplice. Fatta questa premessa, andiamo a grafico ed identifichiamo alcune di queste candele. Partiamo subito con una bella Cross Doji che ha funzionato, che è questa qui. Aspettate che ve la zoom bene, così la si può guardare. Ecco qui, questa è una Cross Doji che ha funzionato molto bene. Infatti il prezzo stava scendendo. una volta che il prezzo ha formato la Cross Doji, poi dopo è ripartito verso l'alto. Questo uno dice, beh, semplice, no? Facilissimo. Sì, peccato che a volte ci sono tanti falsi segnali. Tipo, vi ricordate l'hammer? Questo qui? No. Prezzo scende, si forma l'hammer, si riparte. Diamolo a vedere un po' a grafico. Hammer. E andiamo a segnare il primo. Eccolo qua. Vè che bel hammer. E poi, il prezzo è niente, continua a scendere. Altro hammer. Eccolo qui. Si forma un hammer, ci si pensa, ah, ok, beh, quello è un hammer, effettivamente potrebbe invertire, sì, peccato, che le probabilità sono sempre probabilità. E non è detto che funzionino. Qua, ancora una volta, e il prezzo continua a scendere e continua a illudere gli investitori che credono che basta identificare un hammer per poter guadagnare. Visto adesso gli hammer, vi volevo far vedere anche, e ho cercato una candela proprio che fa vedere una shooting star che funziona in maniera eccellente. L'ho trovata qui sul grafico del cambio euro-dollaro. Adesso ve la faccio vedere. Guardate questa bella shooting star come fa il suo dovere e come rispinge i prezzi verso il basso. Eccola qui, l'andiamo a vedere, l'avevo un attimo persa. Eccola qui, guardate che bella. Qui il prezzo prova a salire sul cambio euro-dollaro, prova a salire, si forma la candela, riscende e il dollaro torna ad apprezzarsi nei confronti dell'euro. Perché vi ricordo, questo non l'ho detto prima nella lezione su sugli strumenti finanziari perché non volevo complicare troppo per i neofiti, lo dico adesso, quando si va ad aprire una posizione short su un cambio valutario, ad esempio, vado ad aprire short su euro-dollaro significa che io non solo sto vendendo euro ma sto comprando dollari contro euro. Al contrario, quando vado ad aprire una posizione long, quindi sul punto e penso che possano esserci delle candele verdi in futuro, allora, qui io vado a comprare euro contro dollari, quindi allo stesso tempo io sto sia comprando euro che vendendo dollari, perché sia se il dollaro perde di valore sia se l'euro guadagna, allora io comunque guadagno da questo cross-valutario. Fatta questa piccola parentesi, torniamo alle nostre candeline e torniamo sull'S&P 500. Abbiamo quindi visto che con le candele di inversione non si ha sempre successo perché hanno un vantaggio statistico, però a volte anche i trader fanno degli errori. e voglio farvi vedere un errore banale che succede spesso è che vedete l'inverte dammer dice così, no? Cioè il prezzo scende e si forma l'inverte dammer e si riparte, molti trader fanno l'errore di credere che questo sia un inverte dammer. No? Però qui manca una condizione, ovvero la condizione è che i prezzi stavano scendendo, si forma e risale. Questo qui più che un inverte dammer è più, secondo me, una shooting star che non ci ha creduto abbastanza, no? Perché vedete l'ombra come spinge forte verso l'alto e poi dopo si rimangia tutto, no? Il mercato si rimangia tutto e i prezzi tornano a scendere. Quindi, mi raccomando, quando vedete le candele ok identificarle, ma soprattutto quello che dovete fare è capire l'ombra, cercare di interpretare queste ombre perché la forza di queste ombre e quanto sono profonde e quanto poi il mercato se le rimangia dà un bel segnale di forza del mercato. Tipo qui vediamo anche questa candela, ha spinto con forza verso il basso, è ripartita verso l'alto e questo qui è un bel segnale di inversione anche se non riusciamo a identificarla bene perché non rientra nelle candele classiche, questa ombra qua ci sta dicendo molto, come ci sta dicendo molto questa ombra qui. Detto questo, adesso andiamo a vedere più che le candele di inversione, continuiamo sempre a stare nelle candele di inversione, ma andiamo a vedere le candele di inversione formate da più candele. Quando ci sono più candele si parla di pattern candlestick. Qua vediamo che ci sono le morning star, le evening star, le bullish abandoned baby e via dicendo, guardate quante ce ne sono. Comunque, queste qui, adesso non le andiamo a vedere tutte al grafico perché sarebbe lungo e anche noioso, quando vi trovate di fronte una candela del genere è abbastanza interessante cercare di capire se c'è, se ci può essere realmente un'inversione di mercato. Quella che vedrete più spesso sarà sicuramente una bullish o una bearish engulfing, l'andiamo a vedere un attimino qui a grafico che l'avevo preparata proprio un caso, ecco qui, vedete queste due candele, queste due qui, guardate, aspettate che ve le prendo insieme, ecco qui, queste due qui, elimino questo così non c'è più confusione, queste due qui sono effettivamente una bullish engulfing, perché questa candela verde si rimangia tutta la rossa precedente. Tengo anche a precisare che quelle che vedete qui sono immagini puramente didattiche, quindi non è detto che un evening star ve la trovate così, magari questa candela ha un corpicino un po' più piccolo, questa qui ha un corpicino molto più grande, questa qui non è perfettamente così didattica, ma è un po' ballerina, però effettivamente può avere quell'effetto lì. Naturalmente è una questione di riuscire a interpretare. Esempio, e poi dopo vado avanti, esempio, questa situazione qui sempre sull'S&P 500, guardiamo queste tre qui, queste tre candele qui, ecco qua, queste qui possono essere definite avete una evening star più o meno, più o meno, chiaramente non dovete aspettarvi che sia così semplice che le trovate sempre, questa può essere un evening star, come può essere un evening star anche questa qui. Visto ora tutta la parte dell'analisi candlestick, è bene farvi questa premessa, e l'ho già detto ma lo voglio ridire, tutte le candele giapponesi hanno una probabilità di successo, quindi se pensate di operare in questo modo e io so che molti ci hanno già pensato di pensare di operare in questo modo allora vedo una candela di continuazione allora continuo a rimanere in posizione vedo una candela di indecisione ci penso tiro una monetina vedo una candela di inversione allora chiudo il mio trend e mi giro dall'altra parte non si fa così non si guadagna così questa qui ci dà un vantaggio statistico però si parla sempre di probabilità e quindi per poter operare seriamente queste ci servono ma ci serve anche molto altro molto altro cosa ad esempio? ad esempio l'analisi preliminare che l'abbiamo vista prima nel titolo vediamo che cos'è l'analisi preliminare l'analisi preliminare consiste nel definire il trend di uno strumento finanziario tramite lo studio dei massimi e dei minimi eliminiamo adesso tutti questi disegni che abbiamo fatto su S&P 500 e proviamo a dare un'interpretazione tramite l'analisi preliminare del trend dell'S&P 500 in questo momento com'è il trend dell'S&P 500? andiamo a fare lo studio massimi e minimi massimo 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 o però vediamo minimo 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 cosa vediamo? vediamo che massimi e minimi sono decrescenti no? che il prezzo tende a spingere verso il basso questo cosa ci dice? ci dice tramite l'analisi preliminare fatta in 30 secondi ci dice che noi siamo in presenza di un trend ribassista perché l'analisi preliminare ci permette di definire il trend ecco qua quindi così lo facciamo sull'S&P 500 andiamo a vedere magari adesso un altro strumento finanziario quale è bitcoin dai che non l'abbiamo ancora visto che so che sicuramente c'è qualche amante eh bitcoin analisi preliminare facciamola prendiamo l'ultimo anno l'ultimo anno e mezzo quando si fa un'analisi preliminare più o meno come arco temporale vediamo cosa succede allora massimo 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 allora sta scendendo no vediamo minimo minimo i minimi ce lo confermano sì certo allora cosa possiamo dire possiamo dire che vediamo massimi e minimi che pian piano no vanno sempre più a eh aggiornarsi allora un trader in un caso del genere cosa fa va a cercare operazioni short perché prova a seguire il trend principale quindi tramite gli strumenti di analisi tecnica tramite analisi fondamentale tramite l'analisi preliminare che gli definisce il trend tramite l'analisi candelty che gli può dare un segnale di entrata cerca magari qui qualche candela di inversione come vediamo qui guardate qui cosa si presenta si presenta questo bel pattern eccolo qui da tre infatti infatti un trader che era stato attento si presenta questo bel adesso zoom di più perché se no non si vede si presenta questo bel pattern da tre no che rispinge i prezzi verso il basso se uno non vuole identificare il pattern si basa su una singola candela si può pensare questa candela qui che allora si cerca di dare un'interpretazione è una candela singola cos'è è più o meno una shooting star vediamo che è una shooting star i prezzi arrivano dall'alto si forma questa candela non è stata perfetta è una shooting star una gravestone doji anche va bene insomma però è molto molto simile e allora si può dire allora sai cosa si può puntare ad andare giù e allora qui ho il trend ho l'analisi candlestick l'analisi fondamentale c'è anche un'altra cosa che vediamo nella prossima lezione e allora si può dire ok allora qui posso fare la mia operazione short perché ho vari elementi a mio vantaggio e ho una grandissima probabilità di ottenere profitto da questa operazione visto analisi candlestick analisi preliminare per questa lezione è tutto abbiamo visto parecchie cose io vi ringrazio per la visualizzazione e noi ci vediamo nella prossima lezione